Risponde Mester Ranieri con la formazione che ha vinto al Bentegodi contro il Chievo, Giulio Cesar in porta, Michael Lucio Samuel in agatomo in difesa, Zanetti Stankovic e Paul in mediana, Snyder a supporto di Diego Milito e Diego Forlano. Grande colpo d'occhio in curva nord e adesso agli ordini del signor Proenza, musica per le nostre orecchie, la musica della Champions League. Grazie a tutti. Grazie a tutti.